ci divertiremo in salita con i ragazzi a gol deportes questo è sicuro dove ancora non si sa però ci divertiremo in salita ma io credo di sì magari non vincendo però movimentando attaccando e anche vincendo mi divertirò si divertiranno i direttori sportivi e credo anche il pubblico perché comunque vedere tutta una squadra formata da colombiani sono anni che non che non succedeva è vero che ci sono colombiani sparsi in alcune in alcune squadre in europa anche bravi però avere una squadra tutti di colombiani immagina di quando li vedi lì tutti insieme con la stessa maglia nera anche la loro faccia un po diversa e quindi è un timbro nella corsa è una caratteristica della corsa che attirerà sicuramente anche gli sportivi che guardano sulle strade alle partenze agli arrivi ma anche nella televisione attraggio attraggio Grazie a tutti.